ok ciao stream pellari ci ho pensato molto come vedete sono qui dove ultimamente sto registrando un po di interviste volevo pensare a un modo per fare della beneficenza per donare dei soldi in modo che fosse sensato e la cosa più carina che mi è venuta in mente è stata quella di pensare di donare il 100% delle entrate della pubblicità di youtube del mese di marzo aprile e maggio quindi tutte le entrate pubblicitarie di questo canale di marzo aprile e maggio verranno devoluti tutti in beneficenza alla protezione civile allora perché questa mi è sembrata la cosa più intelligente da fare principalmente perché mi è sembrata una cosa super carina il fatto che possiamo fare del bene a due vie nel senso che sappiamo che siamo tutti a casa quindi abbiamo magari bisogno magari o voglia o abbiamo tempo comunque di informarci di guardare dei video che magari ci possano dare delle informazioni poi c'è per altre cose c'è chi fa intrattenimento perché ci vuole anche quello ma comunque siamo a casa quindi magari possiamo approfittarne per imparare cose nuove eccetera la cosa interessante è che nel momento in cui voi venite a vedere i video in questo canale state anche un po facendo della beneficenza quindi il fatto di guardare vi consente di fare una cosa doppiamente intelligente perché la prima è vi informate e quindi fate una cosa interessante per voi nel senso che insomma io cerco comunque spero di portare dei contenuti abbastanza interessanti che vi possano far crescere la seconda cosa è che appunto più guardate questi video più doniamo in beneficenza adesso sto cercando di capire come fare tecnicamente per essere il più trasparente possibile probabilmente quello che farò sarà darvi un indirizzo email per tutti quelli che vogliono sapere dove finiscono questi soldi e vedere realmente le prove che sto donando i soldi darò un indirizzo email perché non voglio proprio spiattellare proprio tutti tutti i guadagni che poi sono sono pochi non sono un vero youtuber diciamo anche se i numeri sono abbastanza grandi io cerco di mettere meno pubblicità possibile nei miei video e quindi anche i guadagni derivati dalla pubblicità sono comunque pochi quindi i guadagni non sono tantissimi però mi sembrava una cosa molto carina da fare perché possiamo tutti fare quello che abbiamo sempre fatto anzi possiamo dedicarci ancora di più a informarci sulle cose che magari metto sul canale perché ci sono esperti che parlano nel mio canale ovviamente non solo io e mentre ci informiamo riusciamo anche a fare del bene secondo me era una cosa super carina da fare quindi ripeto il 100 per cento di tutti i guadagni derivati dalla pubblicità per il mese di marzo per il mese di aprile per il mese di maggio verranno devolti devoluti in beneficenza alla protezione civile in modo che loro possano avere le risorse che servono per migliorare questa situazione quindi spero che questa sia una cosa gradita spero di riuscire a portarvi sempre cose più interessanti in questo canale ho già qualche ospite che vedrete prossimamente che sarà molto interessante bene quindi spero vi sentiate parte di questa iniziativa dato che contribuirete anche voi strimpellari alla riuscita di queste donazioni grazie mille e ci vediamo nei prossimi video